Per me l'integrazione vuol dire mescolarsi con la società dove si sta, assumere anche le parti della società nuova dove si sta. Per me Teramia, io parlerei in primis della scuola, del progetto che c'è stato nella scuola per quello che riguarda l'integrazione perché lì si tratta di lavorare per il futuro partendo dai piccoli. Mi auguro che la comunità bengalese, ovunque si trovi nel mondo, sia al sicuro, che sia tranquillo, che lavora bene per la società dove sta e per il benessere di tutto il mondo. Il mio sincero desiderio, lo dico sempre, è che dobbiamo lasciare un mondo sempre più vivibile ai nostri figli. Grazie